Provo a migliorare l'Atalanta del Gasp. Iniziamo da Carnesecchi. Lo tengo anche se Falcone è un signor portiere. Scalvini. Si tiene anche lui. Jim City, calciatore per me molto sottovalutato, che tengo. Colasinac. Difesa confermata. Proseguiamo con Olm. Allora la Roma, chi ha su quel lato. Celic. Tengo Olm. Deron. Allora ci sarebbe Frendrup però Deron è troppo importante per l'Atalanta. Tengo Deron. Ederson. Ederson ragazzi non lo cambio con nessuno. Ma di che stiamo a parlare? Ruggeri. Biraghi. Per carità. Andiamo avanti. Coopminers. Che lui. neanche a dirlo. Luckman o De Ketelare, insomma, uno dei due, si tiene. Vediamo se riusciamo a cambiare almeno Scamacca con Alberto Cerri. Ragazzi, Atalanta confermata. Non sono riuscito a migliorarla. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Grazie.